ora no, sicuramente me lo fanno levato, sicuramente, però non è che voglio andare troppo vicino perché se non si accorgi, allora vedi che sto partinando, c'è sta fila qui davanti questo qua era uno che pescava, un caprone eh, che carità che ha fatto? Ha preso sta barca, non so se abbia preso prima la licenza o se si sia messo a friggere fritto di mare, poi non lo so se sarà messo in regola subito non so che licenza, allora sto qui ragazzi, ha fatto una furbata, no una furbata da poco una furbata che gli frutta diverse centinaia di migliaia di euro l'anno e calcola sto qua, sicuramente o lo va a pescare o lo compra sì, ora avrà posto fisso, sicuramente pagherà un botto d'ormeggio però io dico no, smetti che apre, vada voglio rimanere basso, a mezzogiorno prima, prima smetteva mi sembra alle sette e mezzo, alle otto ora va avanti fino a che buio, che d'estate io guarda, ti dico, vedi questa ragazza qui, quanto ci potrà star lì? 5 minuti fai che ogni 5 minuti vende 3-4 fritture miste e minimo, 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 si mette in tasca 30-40 euro a botto ho detto minimo perché delle volte arriva 4 per 8 con 32 più le bibiche entra 40-50 euro ogni 5 minuti far conto, rimane basso, comincia da mezzogiorno fino alle 7 sono 7 ore in cui questo qui ogni 5 minuti si mette in tasca 50 euro far conto te quanto guadagna sto bastardo o vai all'estero a raccogliere pomodori, vai, furbacchione